Buongiorno, ben ritrovati in un nuovo video. Io come sempre sono Davide Lavera, sono un consulente finanziario indipendente e oggi parliamo dei 10 errori che vedo spesso all'interno dei portafogli di investimento. Lasciate un bel mi piace e partiamo con il primo punto. Il primo errore è un'allocazione fortemente disallineata con quello che è il piano di vita personale, familiare e con quelli che sono gli obiettivi dell'investitore. Se un piano è presente, perché il caso estremo è abbiamo iniziato a investire ma non sappiamo perché stiamo investendo, qual è il nostro obiettivo, quando eventualmente utilizzeremo questo denaro e così via. Un esempio può essere un investitore che ha un portafoglio molto conservativo pur avendo obiettivi molto ambiziosi e che probabilmente non riuscirà a raggiungere con questo portafoglio conservativo. Ipotizziamo di parlare di un investitore giovane, magari con famiglia, che ha un discreto portafoglio e vorrebbe cercare di andare in pensione 5 anni prima del previsto. Un'allocazione inferiore verso gli strumenti che possono portare alla crescita del portafoglio, quindi principalmente azioni, può andare a pregiudicare questo obiettivo. Il tutto quindi deve essere pesato a quella che è la capacità di risparmio, a quello che è il patrimonio, alla tolleranza al rischio e quindi alla possibilità o meno di raggiungere un determinato obiettivo con una certa allocazione. Errore numero due. Creare delle proiezioni dei nostri investimenti tenendo conto dei rendimenti storici nominali anziché quelli reali, quindi eliminando dall'equazione il costo dell'inflazione. Ad esempio un investitore potrebbe voler raccimolare 500 mila euro nel giro di vent'anni per avere un gruzzoletto durante la vecchiaia. Costruisce quindi un piano di risparmio basandosi su dei rendimenti nominali attesi, le cose vanno eventualmente come pianificato e arriva dopo vent'anni ad avere questi 500 mila euro. Molto probabilmente in questi vent'anni ci sarà stato un tasso di inflazione. Ipotizzando un tasso di inflazione del 2%, questi 500 mila euro sono in realtà diventati 336 mila euro di oggi. Per questo motivo, per qualsiasi tipo di pianificazione, è fondamentale considerare il costo dell'inflazione. Il terzo errore che vedo fare spesso è un cambio di allocazione continuo seguendo i venti di mercato. Le azioni stanno facendo bene, compro azioni. Le azioni stanno facendo male, compro obbligazioni, compro oro e così via. Questo è dettato A da comportamenti emotivi, nel senso che quando le cose vanno male abbiamo paura di investire di più in qualcosa che sta andando male. E in secondo luogo, dalla presunzione a volte di poter fare market timing. Ok, adesso le azioni stanno scendendo ma scenderanno ancora di più, quindi aspetto a comprarle per comprare un'altra tipologia di asset. Cercare di fare market timing è estremamente rischioso ed è abbastanza appurato che non può essere fatto con una consistenza importante. Quindi l'approccio migliore è costruire un portafoglio di investimento che sia allineato con quelli che sono i nostri bisogni e di conseguenza accettare tutte le peculiarità di questo portafoglio, nel bene e nel male. Il quarto errore è quello che io chiamo la paralisi dell'investitore, tra virgolette. Non so se è qualcosa che ho sentito da qualche parte, però mi piace come termine. Anche qua cerchiamo di fare un esempio. Abbiamo 100.000 euro liquidi da parte che ci sono arrivati per qualche motivo, può essere un'eredità, può essere un'entrata imprevista e così via. A questo punto sono paralizzato e non riesco a investire. In questo momento, ad esempio, i mercati sono ai massimi e un investitore che ha un'entrata di liquidità del genere potrebbe dire «Eh, ma i mercati sono ai massimi, non è il momento più adeguato per investire, aspettiamo che ci sia un calo». Nel frattempo non è detto che quando arriverà un calo, che prima o poi sì arriverà, però non si sa quando e con che magnitudine avremo la possibilità di comprare a dei prezzi più alti o più bassi di quelli attuali. Dall'altra parte, passano i mesi, arriva eventualmente questo calo e quando il mercato inizia a scendere, l'investitore è di nuovo paralizzato. Perché? Perché adesso che il mercato sta scendendo, non ha molto senso andare contro il trend di mercato e quindi potremmo aspettare per comprare ancora più in basso. Questa paralisi dell'investitore è fondamentalmente una paura che porta in azione. La cosa migliore da fare, se a livello emotivo non siamo in grado di investire tutto subito, è perlomeno valutare un ingresso dilazionato nel tempo, magari con un semplice pack o un pack variabile a seconda dei movimenti del mercato, però andando a pianificare l'investimento di questo capitale con un certo orizzonte di tempo ed evitando quindi una paralisi. Sulla carta ovviamente questa tipologia di investimento avrà dei rendimenti attesi inferiori rispetto all'Umsum Investing. Però piuttosto che evitare una paralisi, sicuramente ha molto più senso iniziare a investire. Errore numero 5. Le aspettative sono in totale contrasto con quella che è la realtà. Quante volte abbiamo sentito parlare del fatto che l'S&P 500 storicamente ha avuto rendimenti medi del 10-11%? Perché questo crea delle aspettative che non sono in linea con la realtà? Per una serie di motivi. Il motivo principale riguarda la distribuzione dei rendimenti. Sì, il rendimento medio è appunto di questo 10%, ma questo non vuol dire che dopo un anno avremmo avuto un rendimento del 10%. Con altissima probabilità avremo dei rendimenti molto diversi. Storicamente abbiamo avuto rendimenti annui che vanno dal più 50% fino al meno 40%. Quindi in realtà c'è una certa dispersione della distribuzione. Quindi molto probabilmente non avremo risultati sul singolo anno intorno alla media. Più passerà il tempo e più ci potremmo avvicinare a questa media. Ma di nuovo, anche con orizzonti di 10-20 anni, abbiamo una certa variabilità dei risultati. Quindi queste sono le prime cose da tenere in conto. In secondo luogo, di nuovo, commettiamo lo stesso errore che stavamo facendo prima. Stiamo parlando di rendimenti nominali quando sarebbe molto più importante valutare quelli che sono i rendimenti reali sul lungo periodo. In terzo luogo, se prendiamo l'S&P 500 come proxy per i rendimenti del mercato azionario, stiamo in qualche modo facendo cherry picking. Perché stiamo prendendo un indice, una nazione, che negli ultimi anni ha avuto dei risultati superiori al resto del mercato. Quindi altra cosa da considerare. Un sesto grave errore è quello di dimenticare il quadro della situazione e non considerare tutte le alternative che abbiamo per dei preconcetti. Questi sono due punti importanti che si intrecciano in qualche modo tra loro. Un quadro complessivo della situazione è essenziale, perché noi potremmo avere il nostro patrimonio sparpagliato in qualche modo. Dobbiamo cercare di non creare dei compartimenti stagni, ma avere una visione d'insieme del nostro patrimonio. Eh, ho 50.000 euro sul conto diretta investiti nel tal modo, 100.000 euro nel fondo pensione, 70.000 euro sul conto di Fineco. Ok, ma quali sono gli investimenti all'interno di questi contenitori? Perché a noi interessa quello e interessa qual è la soluzione complessiva che abbiamo raggiunto con questi vari investimenti. E per quanto riguarda la considerazione delle alternative, di nuovo faccio un esempio relativo al fondo pensione, perché tante volte capita di sentire il preconcetto relativamente al fatto che il fondo pensione assolutamente no, quando in alcuni casi particolari si possono avere dei rendimenti che sono il doppio, il triplo rispetto a quello che potremmo conseguire sul mercato, considerati tutti i vantaggi. Pensiamo ad una persona che si avvicina molto alla pensione, ci sono dei rendimenti che diventano in qualche modo esorbitanti, considerati tutti i vantaggi. Quindi cerchiamo di non dire no a priori a determinate soluzioni, ma valutare e comprendere se e quando possono avere un senso. Settimo errore, mancanza di diversificazione quando necessario. Perché dico quando necessario? Perché la diversificazione è un'importante arma per alcuni investitori potrebbe non essere necessaria. Fondamentalmente concentrarci su un certo numero limitato di asset o determinate tipologie di titoli comporta un maggiore rischio specifico che è in qualche modo diversificabile. La percentuale di asset necessari per arrivare a un'adeguata diversificazione è poi totalmente dipendente di nuovo dagli obiettivi dell'investitore, dal profilo dell'investitore e così via. In alcuni casi potrebbe andare benissimo un portafoglio 100% azionario affiancato a un buon cuscinetto di liquidità che può tamponare le nostre emergenze, le nostre spese previste e così via. Però non è qualcosa che funziona per tutti. Di questo ho parlato anche in un video semi provocatorio su una ricerca che parlava del portafoglio 100% azionario in tutta la vita, quindi anche durante il pensionamento. L'ottavo errore è quello di ignorare gli impatti fiscali che hanno le nostre decisioni. Può capitare di doverci trovare ad operare all'interno del nostro portafoglio e ogni operazione può avere degli effetti fiscali. È importante sempre considerare quali sono questi effetti fiscali e valutare se c'è la possibilità di ridurli. Ipoteticamente mi trovo con un'allocazione 80-20 e nel giro di un semestre le azioni hanno dei rendimenti molto elevati per cui arrivano a occupare l'85% del portafoglio contro il 15%. Per mantenere il mio profilo di rischio invariato voglio tornare a questo 80%. Se all'interno del portafoglio azionario ho più ETF e ad esempio alcuni di questi sono stati acquistati in un secondo momento e hanno una percentuale di rendimento inferiore devono essere i primi candidati al taglio per ritornare alla nostra asset allocation perché questo comporterà un ritardo nell'imposta che avremo all'interno del portafoglio azionario. Altri impatti fiscali importanti da considerare ad esempio sono le prese di minusvalenza perché dobbiamo valutare poi dopo se abbiamo strumenti adatti a compensarle poi dopo a seconda di quella che è la magnitudine nel senso che se andiamo a prendere 200 euro di minusvalenza potrebbe convenire se non abbiamo nulla per compensare e dire vabbè è lo stesso diverso il discorso se andiamo a prendere 10.000 euro di minusvalenza 5.000 euro di minusvalenza quelli sono potenzialmente 1.000, 2.000, 2.500 euro di imposta che possiamo risparmiare. Un nono errore e ci connettiamo a qualcosa che stavamo commentando anche adesso è trascurare i ribilanciamenti. I ribilanciamenti del portafoglio possono essere importanti soprattutto quando abbiamo un'allocazione che è costruita in un dato modo allineato con quello che è il nostro profilo investitore. Il ribilanciamento di per sé non è detto che porti a dei rendimenti superiori a un portafoglio che non fa ribilanciamenti soprattutto se abbiamo degli asset che hanno rendimenti attesi molto più elevati e altri asset hanno rendimenti molto più bassi il non ribilanciamento per forza di cose porterà a un migliore rendimento. Qual è il vantaggio del ribilanciamento del portafoglio? mantenere invariato il nostro profilo di rischio e quindi non esporci a rischi maggiori rispetto a quello che avevamo inizialmente pianificato. Anche qua abbiamo sempre un trade-off con effetti fiscali, costi di transazione e così via quindi la cosa è da ponderare e in qualche modo determinare all'inizio del nostro percorso di investimento. Il decimo errore ma altrettanto grave è quello di sottovalutare i costi di prodotti marginali tra virgolette. Mi capita spesso di iniziare a lavorare con dei clienti che sono già molto consapevoli magari hanno costruito già un portafoglio di ETF riducendo al minimo quelle che sono le spese il portafoglio ha un senso rispetto a tutti quelli che sono gli obiettivi di vita dell'investitore ma dall'altra parte ci troviamo alcuni strumenti che sono lì senza un perché perché magari sono una parte relativamente piccola rispetto al resto del portafoglio e sono rimasti lì perché li avevamo in pancia e non siamo riusciti a disfarcene. I fondi che ci aveva venduto l'amico di famiglia o la polizza di investimento o il fondo pensione PIP e in un attimo magari con il 10-20% di portafoglio stiamo accumulando più costi rispetto al restante 80% quindi facciamo importante attenzione anche a strumenti che sono marginali all'interno della nostra allocazione perché ha sempre senso cercare di ottimizzare tutto quello che facciamo al 100%. Fatemi sapere cosa ne pensate se pensate ci siano altri errori importanti di cui non ho parlato lasciatemi un commento e ditemi la vostra potete lasciare un like per supportare il video farlo vedere a più persone iscrivervi al canale se siete nuovi per non perdervi i prossimi e io vi consiglio quest'altra playlist in cui vi parlavo di comportamenti emotivi e irrazionali noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti